Nella mia vita ho la tendenza a prendere pessime decisioni. Tu sei inaffidabile. Mi hai portato dei fiori bellissimi. Sì, è vero. Forse per questo sono rimasto a fare lo stesso lavoro per tanto tempo. Hai tre ore di ritardo! David Walsenyuk, lei è il padre biologico di 533 bambini. Cosa? Siamo nei guai. I tuoi figli si sono rivolti al giudice per scoprire che è il loro padre biologico. Cosa facciamo adesso? Questa busta contiene i profili dei tuoi figli. Non aprirla. So che non avrei dovuto, ma ho preso uno dei profili e soltanto uno. Una pessima idea. Sono un attore che ha appena perso il provino della sua vita. Penso io al coffee shop. Tu chi sei, amico? So fare una tozza di caffè. Ho perso il lavoro. Hai perso il lavoro. Ho avuto la parte. Hai avuto la parte! Non vuoi rivelarti. Non vuoi essere conosciuto come il tizio con 500 figli. Per la prima volta in vita mia sto facendo la cosa giusta. Tag sexy! Magari sarà strana, è un po' esagerata, ma è la mia vita. Non ti servono le capacità per fare il padre. Ok, basta. Mi serve ordine. E questo è l'ordine? Bye bye!